Mi è piaciuto di questo corso la grande energia che si è sviluppata. È stata una grande emozione essere qua. Io sono felicissima di essere venuta a questo corso perché è stato davvero molto bello, molto emozionante e io sono davvero felice, sono molto contenta. Io consiglio questo corso perché ti dà uno strumento importante ti dà la conoscenza e ti dà la consapevolezza che puoi fare qualcosa per te per migliorare la qualità della tua vita e questa è una cosa molto importante. Migliora la qualità della tua vita perché va a toccare molti aspetti, molti pezzetti della tua vita, va a toccare le relazioni che hai con le persone, con la tua famiglia, nell'ambiente di lavoro. Migliora te stesso per poter migliorare i rapporti che hai con gli altri. Mi porto a casa tantissimo, proprio tanto, tanto. Io sono davvero molto felice, mi porto a casa una grande conoscenza e la consapevolezza che posso essere migliore e che posso fare davvero tanto per migliorare questo mondo. Mi sono liberata di parecchi pesi ed erano dei pesi ingombranti, erano dei pesi pesanti e sono riuscita a lasciarli andare in fretta e con grande facilità. Io ci ho messo anni, ci ho messo 16 anni per poter liberarmi di un peso importante come un lutto importante che io ho avuto. E io sono felicissima perché sono riuscita a lasciarlo andare, sono riuscita a provare pace e questa cosa mi fa stare molto bene. Ecco. Sì, io voglio dire di più che grazie a Patrizia perché ringrazio l'universo di avermela messa sulla mia vita, di avermela fatta incontrare perché Patrizia fa le magie, Patrizia è magica ed è veramente una cosa bellissima poter avere avuto la possibilità di conoscerla di persona, di poterla seguire nei suoi corsi e di poterla sentire ogni lunedì che è il mio appuntamento fissi. È bello, è una cosa bella. Grazie, grazie Patrizia, grazie a tutti e grazie all'universo. Grazie.